Salve a tutti, in questo video parlerò di un plugin molto interessante, poco usato, ma molto interessante e ringrazio per lo spunto un caro collega ed amico. Allora, per lo spunto naturalmente. Il plugin si chiama Vector Bender. Come tutti i plugin in QGIS, per installarlo basta andare su plugin, gestione e installazione dei plugin, comparirà una finestra di dialogo, ora comparirà una finestra di dialogo, e su cerca basta scrivere Vector Bender. Naturalmente, essendo questo plugin, è un plugin sperimentale, quindi bisogna andare prima su impostazione, mettere lo spunto su mostra, anche plugin sperimentale, poi si va su tutto, scrivete qua sopra Vector B, basta Vector B, comparirà Vector Bender e lo installate. Installandolo, si creerà questa icona, questa faccina qua, e questa qua rappresenta appunto l'icona del plugin. Bene, a cosa serve questo plugin? Per spiegarlo farò un parallelismo. Allora, per georeferenziare i raster, noi utilizziamo solitamente il georeferenziatore. Quindi, per le immagini raster, ha senso parlare di georeferenziatore, e ha senso anche parlare di georeferenziare un'immagine raster. In ambito vettoriale, in ambito shapefile, per esempio, come si fa a portare uno shapefile nelle giuste coordinate? Perché può essere che uno shapefile non abbia, non sia messo nelle giuste coordinate. Per esempio, se uno shapefile deriva da un file DXF, solitamente chi lavora in AutoCAD non pensa quasi mai a collocare nella giusta posizione il disegno che sta facendo. Ci pensa dopo, sempre se ci pensa. E quindi il problema è questo, come portare nelle giuste coordinate un file DXF, come in questo caso. E quindi è stato realizzato il VectorBender, che serve, permettetemi la parola, ma non è corretta, serve a georeferenziare un vettore. Allora, qua vi ho caricato, questo primo è un vettore, uno shapefile, questo qua, origine PA ho detto, l'ho chiamato, ed è uno shapefile, come vedete anche dal pop-up. Mentre il secondo, da modificare, è un, questo qua, il secondo da modificare, questo qua è un DXF, infatti se ci faccio sopra col mouse, vedete, da modificare SHP, scusate, l'ho già trasformato, nel senso che, se io importo un DXF, DXF, si trova qua, ecco qua, Palermo, ok, open, sistema di riferimento, ok. Infatti se spengo questo, vedete, si trova nelle stesse coordinate, questo qua è un DXF, vedete, la pop-up PA DXF, che praticamente non è altro che, questa è una cosa che ho fatto ad hoc, per spiegare questo plugin, e il DXF è uguale a questo, questo primo, con questo secondo, sono uguali, cioè è lo stesso file originale di DXF, però l'ho trasformato, per far vedere come funziona il plugin. Questo secondo modificato, l'ho modificato in che senso? L'ho traslato verso il basso, l'ho ruotato e l'ho scalato, cioè ho scalato di 1.5, quindi, se notate, sono gli stessi, però questo secondo è roto, traslato, scalato. Bene, quindi, per utilizzare il plugin, la prima cosa da fare è trasformare il DXF in shapefile, perché il DXF in QGIS non si può modificare. Quindi, fatto questo primo passaggio, togliamo il DXF e rimaniamo con i due, che sono entrambi shapefile. Ora, questo shapefile lo voglio riportare a questa situazione qua. Come faccio? Semplice, utilizziamo Vector Bender. Apriamo Vector Bender. Cosa troviamo in questa finestra di dialogo? Troviamo una prima menu qua, tentina, denominato Liar to Band, significa che dobbiamo selezionare il layer che vogliamo piegazzare, modificare, band. Quindi, in questo caso è da modificare, dobbiamo selezionare. Se andiamo accanto, c'è la matitina, quindi significa attiva le modifiche. Accanto ancora c'è la restrizione della modifica solamente alla parte selezionata, ma questo non ci interessa. Scendiamo sotto, abbiamo Pire Layer, cioè è il layer che contiene le coppie di punti origine e destinazione. Quindi qua non dobbiamo selezionare nulla, nel senso che appena ora clicchiamo su questa icona, infatti se clicco su questa icona, lui mi dice qual è il sistema di riferimento, scegliamo il sistema di riferimento e lui in automatico si crea un layer in memoria che conterrà tutti i punti di origine e di destinazione. Infatti, muovete Pinhead, quindi qua dovete selezionare Vector Bender. Accanto, come vedete, si attiva subito in automatico la modifica, quindi già siamo in fase di modifica di questo layer. Scendendo sotto, le altre cose, è meglio non toccarle. Per adesso è meglio non toccarle. Per adesso ci dice che non è valido perché è vuoto, non c'è nessun punto. E allora cosa bisogna fare? La fase successiva è quella di andare su Vector Bender e iniziare a tracciare il punto di origine e il punto di destinazione. E quindi, questo è un semplice vettore, quindi dobbiamo andare su Aggiungi Punto. Naturalmente poi si va su Impostazioni di Snap, bisogna attivare gli Snap, tutti i layer, non so, al vertice, ok. E quindi, cosa dobbiamo fare? Io questo punto qua non è altro che questo, quindi questo lo voglio riportare qua. E quindi che faccio? Zoom un attimino, metto qua. Scusa, ho cornici, ho raddoppiato i punti. Quindi questo punto qua deve andare qua. tasto destro. Raggiungi metri a linea 0, nuova, la esce, poco fa ho cliccato due volte, tutto qua. Quindi questo punto deve andare qua. In questo caso, se io già mi fermassi qua, lui, se io avviassi il plugin, farebbe solamente una trasolazione, ma io voglio la ruota trasolazione, voglio che coincida perfettamente. Quindi vado a prendere un altro punto, per esempio questo, e deve essere questo, tasto destro. Infatti vedete le frecce, quindi significa che questo punto lo porterà qua, questo punto lo porterà qua. Per me va bene, perché, ripeto, non deve fare altro, deve solamente ruoto, trasolare e scavare. Giusto? Quindi ritorno sul plugin che è qua sotto, e lui mi dice, devo attivare la modifica di questo layer, ecco qua, devo modificarla, perché devo modificare questo, quindi devo attivare la modifica di questo, infatti, come vedete qua, trasformazione tipo lineare, semplice, che fa solamente ruoto, trasolazione e scavare. Avvio RUN, lui si fa tutti i suoi bei calcoli, e vediamo dove arriviamo. Ecco fatto, questo lo possiamo chiudere. Da qua salviamo ora quello modificare, lo salviamo e chiudiamo la modifica. Questo Vector Bender, qua ci sono i punti, questi due punti, come vedete coincidono perfettamente, lo possiamo spegnere, perché non ci serve più, e andiamo a controllare, come vedete, non si nota nessuna differenza tra i due. Se io spengo l'origine, e lo accento, vedete, corrisponde perfettamente. Anzi, fatemi cambiare colore, così si nota ancora di più. Questo facciamo rosso vivo, e l'altro, quello originale, lo facciamo nero, così sono colori diametralmente opposti. E allora, oddio, diametralmente opposto. Allora, il rosso è quello modificato, e il nero si trova sotto, ma se vedete coincidono perfettamente, posso zoomare quando voglio, vedete, spengo il rosso e c'è il nero. Tutto corrisponde. Una piccola nota. Per adesso, Kogis ha un piccolo bug, che è relativo al B-Box dello Shape, nel senso che, come vedete in questo caso, lo Shape, prima era qua, ora è portato qua, non appena si fanno la modifica, lo Shape non aggiorna il B-Box. Quindi, se faccio zoom tutto, vedete, mi rimane così zoomato. Per rovviare a questo bug che stanno provvedendo a risolverlo, bisogna salvare nuovamente lo Shape. Infatti, qua si chiama da modificare, è una cosa che avremmo dovuto fare comunque. Se andate su salva con nome, e qua lo chiamate, non so, finale, ok, assoluto, sistema di riferimento, è ok. Vedete qua, questo qua da modificare, lo buttiamo perché non ci serve più. Ora, se fate zoom tutto, vi funziona, perché nel risalvare riaggiorna il B-Box, quindi tutto funziona. Ciao e alla prossima. Se il video vi piace, un like oppure un bel commento, che fa sempre piacere. Ciao!